salva a tutti appassionati di fumetti oggi voglio cogliere la palla al balzo me l'ha passata beppe del canale il mondo di frog il quale ringrazio e ringrazio anche tutti i suoi partecipanti nel gruppo telegram che hanno mostrato una grande stima nei confronti per i miei contenuti so che già da vario tempo si discute sul su che cos'è capolavoro ho visto ci sono stati vari video sia registrati da beppe e quelli registrati da andrea di canno tv quello di roi emanuello quello di gennaro di graucio seconda e poi ragazzi ce ne saranno sicuramente anche altri questi però sono quelli che io ho visto devo dire che in generale hanno ragione tutti e nessuno allora vorrei dire la mia perché mi è stato chiesto io sull'argomento capolavoro non non ci ho fatto mai non mi sono mai seduto a riflettere sinceramente perché mi sono sembra andato con con i con i miei parametri sinceramente in base a quello che mi piace non mi piace mi baso poco su quello che penso negli altri giudico sempre con la mia testa e quindi io ho individuato quattro tipologie di capolavori ecco nel canale di beppe o nel gruppo telegram di beppe erano stati individuati i capolavori doc e i capolavori secondo me e andrea di canno tv invece ha parlato come giustamente ha detto la parola capolavoro si può dire mettendo il secondo me davanti quindi secondo me questo fumetto è un capolavoro del indicando anche il il genere o il sottogenere no per esempio classicissimo l'esempio che lui sui film di di pierino di alvaro vitali degli anni degli anni 80 in cui lui dice secondo me questo film di pierino mettendo un titolo è un è un capolavoro del del cinema demenziale diciamo così italiano degli anni 80 e lì naturalmente suscita meno critiche rispetto a dire i film di pierino naturalmente è un capolavoro no suonerebbe già già molto strano allora io ho individuato quattro tipi di quattro gruppi diciamo così di capolavori allora il primo che ho individuato il capolavoro dell'entusiasta sia in ambito fumettistico cinematografico e il classico così vogliamo dire anche un po diciamo che nasce dall'inesperienza e da una mancanza di background no perché chi ha esperienza ha visto tanti film ha letto tanti libri ha letto tanti fumetti è meno soggetto andare incontro al al capolavoro diciamo così dell'entusiasta magari chi è più più inesperto invece portato a sfruttarlo di più il capolavoro dell'entusiasta e vi faccio un esempio mi ci metto dentro io così non teniamo dentro nessuno no io mi è capitato mi sono imbattuto in quest'anno solare del 2021 in un capolavoro dell'entusiasta che è questo qui Dylan Dogg fa parte della saga del pianeta dei morti una risata vi resusciterà io non sono un grande appassionato né di horror né di Dylan Dogg anzi devo dire proprio che non lo leggo avrò letto quattro cinque albi in tutta la storia di Dylan Dogg tra l'altro prestati di mia iniziativa non li ho mai comprati però questo albo che mi è stato prestato sotto suggerimento di Gennaro mi è piaciuto tantissimo io l'ho definito un capolavoro perché mi ha emozionato tantissimo la storia l'ho trovata brillante un colpo di scena che non mi aspettavo insomma questo qua è il classico capolavoro dell'entusiasta cioè in poche parole si esprime con il termine capolavoro ma in realtà vorrebbe dire bellissimo bellissimissimo no ecco invece di io di dire questo fumetto per me è stato bellissimissimissimissimo dico capolavoro e quindi questo è il capolavoro dell'entusiasta naturalmente si può applicare anche a chi esce dal cinema e magari ha visto pochi film avete un film che gli è particolarmente piaciuto all'uscita incontra gli amici dice ma è ho appena visto un capolavoro no e poi magari è il film del classico cine parettone no che si fa che si fa ogni volta in questo periodo la seconda categoria che io ho individuato il secondo capolavoro è il capolavoro dettato dalla storia naturalmente riguarda sempre il fumetto il cinema i libri e vi dicendo questo invece secondo me è un capolavoro che nasce dal tempo cioè è un'opera che ha cambiato il modo di pensare ha influenzato le masse ha fatto da ripista per altri per altri diciamo che poi l'hanno seguito dal punto di vista cinematografico dal punto di vista letterario no questo secondo me è poco opinabile è poco opinabile perché questo capolavoro dettato dalla storia si basa sulle rendite sul numero delle ristampe naturalmente può piacere o non piacere io su questo qua sapete non discuto però questo disco di claudio baglioni la vita adesso questo è un capolavoro dettato alla storia perché è il disco più venduto in italia ancora oggi il disco più venduto può piacere o non piacere o non piacere giustamente claudio baglioni con tutte le sue canzoni che sono all'interno però questo è un capolavoro dettato dalla storia un altro non vi allungo troppi esempi l'altro è Sherlock Holmes uno studio in rosso io l'ho letto l'ho anche riletto credo l'abbia letto almeno tre volte questo qui non è naturalmente fra i libri più belli che abbiamo letto nella mia vita però è un capolavoro dettato alla storia perché questo qui ha fatto da apripista un po' per tutto il classico diciamo così investigatore investigatore privato ha messo in campo tutta una serie di meccanismi dal metodo induttivo deduttivo che fa parte proprio di Sherlock Holmes e tanti poi sono andati dopo a copiarlo in poche parole quindi questo qui tra l'altro successo perché è stampato ancora oggi tantissime copie vengono ancora vendute vedo anche in eticola che ancora continuano a uscire i capolavori di Arthur Conan Doyle quindi ragazzi è passato un secolo e quindi queste storie continuano a appassionarci ancora quindi questi qua sono capolavori dettati alla storia uno studio il rosso e il classico esempio andando avanti c'è un'altra categoria che è il capolavoro del genere o del dell'autore qui riguarda il genere può essere il fantasy può essere l'horror il western no ma magari può riguardare anche lo scrittore il regista il pittore no quindi in poche parole qui questa è il capolavoro del genere o del dell'autore diciamo così è più è sempre opinabile però diciamo che fra appassionati ed esperti che ne so esperti di 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 pittura no ho nominato prima il pittore esperti di pittura per esempio o di arte e ci si può mettere d'accordo su qual è il capolavoro di Van Gogh no ci si può ci si può mettere d'accordo su qual è il capolavoro di Picasso e se ci può ci si può mettere d'accordo qual è il capolavoro di Monet quindi direi che qui io vi porto alcuni esempi più naturalmente del mio campo no per esempio Giorgio Faletti è un autore che purtroppo ci ha lasciato però io credo che fra vari appassionati di di letteratura io uccido possa essere considerato il suo capolavoro no quindi il capolavoro dell'autore è io di Giorgio Faletti io uccido lo si può tranquillamente dire no poi può piacere non piacere giustamente però credo che questo qua ci siano fra appassionati ci si può mettere d'accordo un altro scrittore vi porto qua solamente due esempi Stephen King no fra appassionati ci si può mettere d'accordo e dire che questo libro it è il capolavoro di Stephen King e faccio l'ultimo esempio invece vi porto Massimo Troisi un grandissimo Massimo Troisi e si può dire fra esperti insomma di cinema fra tutti quelli che hanno visto i suoi film che il postino può possa essere considerato il suo capolavoro il suo diciamo testamento spirituale che ha lasciato perché poi da lì a pochi giorni veramente ci ha lasciato quindi l'ha fatto veramente con tutto il cuore questo film si si vede la partecipazione il sentimento questo qui è il capolavoro di Massimo Troisi quindi su questo ci si può mettere d'accordo quindi il capolavoro del genere il capolavoro del genere western il capolavoro della fantascienza io ho portato solamente alcuni esempi oppure ho il capolavoro dell'autore come ultimo capolavoro ho individuato il capolavoro della perfezione cioè mi riferisco a quelle opere che sono stilisticamente perfette come scrittura come trama come regia ci si può insomma trovare in grande disaccordo su questo qui quindi mettiamolo in preventivo perché molti di noi potrebbero non apprezzare un determinato stile potrebbe non piacere una determinata trama potrebbe risultare ostica un certo tipo di scrittura o l'argomento trattato i tempi a volte sono film che sono considerati dei capolavori io vi porto il 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick in cui praticamente del tempo in questo film è veramente dilatato però cosa gli volete dire è stilisticamente perfetto la grafica è impeccabile soprattutto in questa edizione che viene anche rimasterizzata corretta insomma con i nuovi mezzi in cui vengono residivi più i colori e in blu ray e quindi ragazzi chi si gode 2001 Odissea nello spazio vedrà un capolavoro veramente per gli occhi tra l'altro così volete dire anche i rumori nello spazio non si sentono quindi quando succedono c'è avviene un'esplosione dentro una navicella e quindi si vede tutta la scena in silenzio porte che sbattono così tutto in silenzio quindi questo qui è un capolavoro della perfezione può piacere non piacere però su questo secondo me c'è poco da dire sul 2001 Odissea nello spazio l'altro esempio che vi porto è il padrino di Francis Ford Coppola in tutte le sue parte 1, parte 2, parte 3 anche in questo caso ragazzi questo qui è un capolavoro della perfezione viene ricostruita tutta l'ambientazione tipica di quegli anni tutti gli attori recitano in modo impeccabile i vestiti sono impeccabili quindi questo è un capolavoro della perfezione e sia un po' piacere, non piacere ma c'è poco da dire allora ragazzi questo è quello che ho pensato io ve le ricapitolo velocemente quindi ho individuato il capolavoro dell'entusiasta il capolavoro dettato dalla storia il capolavoro del genere o il capolavoro dell'autore e il capolavoro della perfezione mettiamola così e voi come la pensate? spero di essere stato esaustivo di non aver deluso magari le attese da parte di Beppe e del suo gruppo Telegram fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video con un'altra recensione scarsa ciao